Hello, here is Rangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry, with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Dopo la macellazione in Australia, l'intero processo di trasporto della catena del freddo a zero a tre gradi, quando la bistecca arriva al negozio. L'intera bistecca viene volatilizzata in un ambiente a temperatura e umidità costante per far evaporare il sangue e drenare l'acido. Anche se la perdita è grande. Ma in questo modo la pelle della bistecca alla griglia è carbonizzata. L'aroma e il sapore della carne è più intenso. La bistecca tagliata deve essere svegliata a temperatura ambiente prima di entrare nel forno tilde e consistenza uniforme a fiocco di neve. Pura carne magra. Un pezzo grande. È reale. Il raro forno a gas superiore importato per bistecche a Magic City. Appositamente personalizzato forno a gas bistecca importato dagli Stati Uniti. 800 gradi ad alta temperatura. Bloccando in umidità e sapore della carne nessuna discussione. La bistecca è sempre calda dal forno al tavolo. La piastra della bistecca è preriscaldata a 180 C. E il manzo è ancora caldo solo quando viene servito. Consegnato alla bocca è una linea di tilde fresco. Sirluan è la spina dorsale esterna del manzo. C'è uno strato di grasso uniforme. Ordine 5 minuti cotto meglio tilde. Tagliare aperto l'interno è un nuovo tenero colore di pesca. Il succo mescolato con il sangue traboccò. L'ingresso duro allo stesso tempo. Il succo si diffuse lentamente con la masticazione. Passando ad ogni angolo della bocca tilde. Spingendo i confini della cucina molecolare di alto valore. Dopo aver mangiato cibo occidentale deve avere qualche dessert per alleviare la noia tilde. Ora ecco il lancio di due torta cucina molecolare o. Rinfrescare il metodo di produzione tradizionale. Il valore della faccia è anche enorme tilde troppo accattivante tilde. Torta mousse al lampone fatta con purea di lamponi. Albumi d'uovo e polvere di agar. Ma anche in due forme per mostrare tilde sapore di lampone è ricco. Accompagnato da un gusto agrodolce tilde. Nessuna crema leggera più da mangiare senza paura di grasso tilde. La crosta crostata è avvolta in una base croccante di burro tilde guarnita con lampone e purea di frutto della passione e frutta fresca. Una cucchiaiata in bocca elimina istantaneamente la sensazione di unto in bocca. E non ha il sapore di pesce delle uova tilde come dessert dopo cena è davvero molto buono tilde. La stick house della casa unifamiliare che ha inquinato metà dell'industria dell'intrattenimento. L'interno è pieno di forte stile americano. Elegante colore blu rubino e legno originale. Pieno di consistenza. Lo spazio tra ogni tavolo è relativamente grande. Molto confortevole e un senso di privacy. Posti a sedere doppi e 6 a 7 posti di carta persone sono disponibili. Ci sono anche sale private. Dove Abba fatto una festa. Molte stelle sono venute alla carta. Il piccolo partito di 10 persone completamente tenere. Super vecchio castello sentire hanno legno tilde. Franck's stick house. Indirizzo. Due gradi piano. Jinjang Duchenne Hotel. 98 East Naning Road. Franck's stick house. Indirizzo. No. 1107. Yu Yuan RD. Franck's stick house. Indirizzo. 3F. Moon Bay. Rui Yong Tiendi. No. 188. Rui Yong Road. If you are interested in our videos, remember to follow us. Rungguk more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you. I'll see you. I'll see you.